L'edizione 2019 del concorso IP con la Bagnaia, le sue novità e la sua partenza con Sara Rifesermonti che è il grande motore di questa manifestazione, di questo evento. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Cristian. Quali sono allora le novità? Vogliamo saperle subito? Allora, partiamo dal programma. È un programma che come l'anno scorso vede un CSI una stella e un CSI due stelle. La formula era nuova l'anno scorso e devo dire che il successo che ha riscontrato ci ha fatto capire che per quest'anno la cosa migliore sarebbe stata proprio replicarla. Devo dire che i numeri ci hanno premiato perché abbiamo sfiorato i 300 cavalli partenti che per un concorso come la Bagnaia, che è un concorso una tantum, è sicuramente un importante successo. Questo ci ha permesso di accogliere tantissime persone che avevano fatto richiesta e quindi accogliere anche dei cavalieri stranieri molto più di quelli che avevamo avuto lo scorso anno. Abbiamo in gara praticamente nove nazioni e ovviamente con un gran numero di cavalieri italiani fra amatori e professionisti. Un campo gara che è a prima vista splendido e un campo gara che ha davvero scioccato anche i coloro che venivano qua per la prima volta. Un campo non semplice perché ci sono molte cose che possono distrarre il cavallo ma che per noi appassionati lascia veramente senza fiato. Sì, credo che non sia semplice l'ingresso in campo per la prima volta né per il cavallo né per il cavaliere perché abbiamo un campo che è un po' a perdita d'occhio. Però abbiamo scelto di sfruttare anche quella zona che una volta utilizzavamo solo per il derby perché abbiamo pensato che questa potesse diventare la vera particolarità di Bagnaia. Oltre ad avere un manto erboso che essendo sfruttato solo una volta all'anno possiamo lavorare per 12 mesi e arrivare al meglio a quest'occasione. La dimensione e la forma sono sicuramente singolari. E facciamo gareggiare anche quelli che sono gli amatori nello spazio più dedicato a quello che una volta era il classico derby di Bagnaia che quest'anno non riproponiamo in toto ma abbiamo rinserito una gara nella giornata di domani dove saranno presenti alcuni salti che fanno parte del percorso come il lago e poi la fossa ferrarese. Nella prossima domanda ti do degli indizi. Guardo nello specchietto, allaccio la cintura, metto la prima. Perché? Perché quest'anno abbiamo in Paglia, allora una grande tradizione di Bagnaia è quella di dare in Paglia una macchina. Questo è sempre stato da quando le gare erano dei semplici interregionali e quindi la tradizione in questo caso va mantenuta. La novità quest'anno è Volkswagen che è sponsor per la prima volta alla Bagnaia. In palio abbiamo una fantastica T-Cross e verrà assegnata al miglior cavaliere fra la gara grossa di oggi e il gran premio di domenica. Perfetto. Poi come sempre abbiamo, come vedete qua vicino a me, un'urna per tutti i premi da assegnare agli appassionati e ai fedelissimi di questo concorso. E poi quello che succederà la sera? Sì, ci piace divertirci insieme a quelli che sono i nostri amici, ecco. Quindi dal giovedì sera offriamo un aperitivo di benvenuto che ogni anno ha una formula diversa. Il venerdì sera abbiamo un barbecue, il sabato sera una cena un pochettino più formale, ma solo nella forma appunto. Perché in verità a me piace pensare che tutte le persone che vengono qua devono stare un po' in vacanza. Devono venire, per carità hanno la gara, sono impegnati, però devono sentirsi a casa. E per ora i sorrisi che riscontro, i feedback che ho sono estremamente positivi. Quindi anche la sera cerchiamo di stare tutti insieme, di essere tutti uniti e viviamo insieme tutto il weekend. E allora visto che la tua scelta quest'anno è stata molto coraggiosa di partire al venerdì 13, dite incrociate e viva la bagnaia! Grazie.